Cos'è che hai fatto? Hai portato la giagola dal carrossiere? Hai portato? Eh? Solo che il problema è che ti ha fatto il lavorino non da poco Allora vi spiego un po' L'assistente vi ha sputato sui sedili Quell'altro gli ha rigato la macchina con le chiavi Il motore l'hanno tolto In pratica va senza motore È una nuova tecnologia Senza motore, sì Se l'è inchiappettato il proprietario Perché fanno Fa la collezione delle marmitte Poi il tetto è stato tagliato Ah mi raccomando Se vai a ritirare la tua macchina Devi dire Pandino Club No devi dire Finocchio Scusa Ti fanno l'ascolto del 99% Finocchio sconto del 99% Dai ottimo lavoro comunque Poi ho visto il video è bellissimo Hai fatto un video fenomenale La macchina è da buttare nel cesso Nel cesso Nel cesso È da dargli fuoco Fuoco Col fluoro Te lo ricordi Sdeli Col fluoro E' da dargli fuoco E' da dargli fuoco E' da dargli fuoco E' da dargli fuoco Voi?